Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Bandico Faisac Afterbirth Plus Io sono Leon e siamo qui oggi pronti per fare una partita Per essere precisi, questa nuova partita la voglio fare con un personaggio che ho visto Allora, Jack SS, che è Samael Mi piace Sono giocato in privato e semplicemente mi piace Mi piace tanto, è bello, però a me piace Siamo in questa partita NW4B e YG Non ha attacco range, tranne forse questo Però che bisogna caricare Usa una falce per falciarli tutti Ha un po' più attacco più alto del normale E un, per quanto riguarda invece, le tiers base Per il resto tre cuori soltanto, due di fede, uno nero per come attacco È bello, è bellissimo, a me piace tantissimo questa animazione L'attacco, ok Inoltre ha un'abilità speciale che si attiva con shift Quando la barra a fianco, le bombe, i soldi e le chiavi Diventa completamente rossa Che la vorrei chiamare modalità tipo demoniaca Pura Perché Comincia, entra, praticamente si incazza Ottiene un aumento di velocità nel tempo che attiva E oltretutto Può attaccare molto più velocemente Adesso la vedremo contro il boss Per poterlo eliminare in fretta Io di solito la tengo per i boss Perché Perché così posso andarci corpo a corpo durissimo Tipo vedete in questo momento Ci sto andando corpo a corpo Aia Ecco Attaccava più velocemente Faceva il danno normale Però Attaccava più velocemente C'è qualcosa altro interessante in questo piano? Direi di no Quindi scendiamo In ogni caso Il personaggio che a me piace veramente tanto Difficile Difficile da giocare Perché dovete stare molto Proprio pelo 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 Per utilizzarlo Bisogna stare molto attenti Il range rende più Rende più grande la falce Quindi E' interessante anche questo Non c'è molto altro da dire Per ricaricare quella barra dell'attacco speciale Bisogna infliggere danno Credo che sia basato su danno E non su altra roba Quindi ok Le tears up ci permettono di fare questa cosa più velocemente Non mi ricordo cosa fa la fornace L'ho già tenuta Ne sono consapevole però Non so minimamente cosa faccia Quindi ok Vi dico scusa se sto morendo ma Ho prima finito di mangiare Ammetto E Mi stava dando a quanto pare Stavo per morire a causa della digestione In qualche modo Quindi sono abbastanza contento Che sono sopravvissuto A quella cosa A quel momento Che poteva non essere troppo idillia Ecco ammetto Soprattutto da Da vedere in un video Una persona che muore Che non è di certo La cosa meno impressionante Che potreste vedere in un video Quindi sì Ah mi piace il fatto Che per 7 centesimi Posso comprarmi quella cosa Già Mi piace molto Aspettiamo di entrare là dentro Vorrei ottenere delle bombe Perché così Almeno sono contento Posso fare un po' di cose No allora Mi posso prendere Una bomba per due bombe E poi Vediamo Una bomba Apparentemente la sto comprando A tre Ne ricavo due bombe Più uno Va bene Dai Magari riesco a farla funzionare Come cosa Quindi dammi questo E ne ricavo due bombe E fin qui ci siamo Due bombe Ne ricavo Bene Poi Ricavo un centesimo Quindi Ok Poi ne ricavo un'altra Un altro centesimo Magari sono fortunato Vediamo Vediamo qua Fiamo così E ho due bombe Qua ne posso fare così E dovrei ottenere Un'altra bomba Per fortuna Faccio in questo modo E ho due cuori di fede E' perfetto E ho una bomba Ok Ora vediamo cosa c'è qui Potrei ottenere centesimi Da quella zona Quindi andiamo dal boss Vediamo cosa mi da Più satana Perché potrei decidere Di donare centesimi Il fatto è quello Il fatto molto semplice è quello In caso potrei farlo Ok Mettiamo il rage Praticamente E muori Ottimo Shot speed up Più una carta La carta è una Choclabs Buona Ottima Direi Atame credo che Prenderò Atame Per sicurezza Un altro centesimo Ottimo Questo mi Mi permette un po' Di pararmi il culo La Choclabs Mi aiuta Perché Una la piazzo Certamente qui La Cracked Stone Shockwave Shot Ogni tanto Non so come funzioni In questo caso Però Sviluppa Uno shot Cioè dovrei fare Tipo un colpo Una specie di bomba Ogni tanto In un colpo Quando colpisce Ora qui Facciamo Così Li prende tutte e due Spero No Prende soltanto uno Preferisco andarmene Sul sicuro Poi magari È una cazzata Però Ho preferito Fare così Avrei dovuto Comunque Donare qualcosa Forse No Sarei riuscito A farlo Tranquillamente Maledizione Odio potente Quando succedono Cioè Quando succedono Queste cose Perché non ero sicuro Che mi avrebbe Pagato E allora ho detto Fanculo Me la tento Non è vasta la pena A volte succede Peccato In ogni caso Avremo sempre una scelta Tra due oggetti Nel basement Ho disattivato E voglio disattivare Per un pochettino Il Il Come si chiama L'oggettino Che mi droppa Non che mi droppa Ah porca Non mi viene Ah Quello che mi obbliga A fare Una zona In confronto Di un'altra Quindi Sì Per un pochettino È disattivata Come cosa Quando ci sono tanti nemici Ancora non è Il danno della vita È un po' difficile Però comunque Non siamo messi male Devo soltanto Dire la verità E dire che Non siamo messi male Mentre quando Potrei mentire Sapendo di mentire Il problema È che devo Devo sfruttare Un pochettino Di più La gestione Del danno Che ho attualmente Cosa c'è qui dentro Eh vabbè dai Su via Proviamola Beh Bird control Mi aumenti Una statistica A seconda di quanti Di che famigli Non quanti famigli Ho Di che famigli Di quanti famigli Ho Quindi Se ottengo Dei famigli Mi potenziano Meglio di nulla Non so che statistica sia Non so se sia Casuale Però credo che funzioni Con una sola statistica A volte ha fatto Con la LAC Quindi non ho idea bene Come funzioni sta cosa A volte ha fatto Con la LAC A volte ha fatto Con un'altra cosa A volte A seconda di Di come è preso bene Il gioco Mi può dare Più o meno Roma interessante Salve Avrei Avrei provato Anche ad ottenere Quella Quell'oggettino Aia L'hanno preso Fastidioso Ti vuoi alzare Ovviamente Quando finisce la cosa Però mi ha dato lo stesso Un cuore nero Grazie Mi piace Quando mi dai cuori neri Così a caso Questa è una stanza Di quelle che combatterò Da lontano Da molto lontano Da estremamente lontano Ammetto Non mi attaccare Non corpo a corpo E sono contento Ecco Ammetto che Quando ci sono questi nemici Qua Viene Oggettivamente dura Sopportare La situazione Con questo personaggio È molto più importante Aumentare il danno Che le tiers Invece È una cosa È una strutturalmente Di gameplay interessante Anche per questo motivo Perché devi aumentarti Il danno Più che le tiers Quindi Sì Figa Come cosa Molto figa Vediamo Come andrà a finire Speriamo che finisca Non troppo male Ok Grazie per avermi fatto Prendere danno Sto controllando Se ci sono rocce Particolari De hollow Vabbè De hollow Mi attiva anche L'effetto demonia Con lo shift Figo Se è così Sempre Se non è a caso Cioè perché Se mi attivi L'effetto Di atame Con shift Perché sei Un grande pezzo Di Cioè Un po' A caso È una cosa Che posso abusare Di cui posso Perché forse Quello che conti Come invulnerabilità Per danno Non ne idea Cioè Sì Attiva l'effetto demoniaco Ogni volta Chiuso shift Non so perché Non mi lamento Sinceramente Entriamo Andiamo nella stanza Del tesoro Che Sono abbastanza contento Di aver scoperto Fosse qui Vai Eliminiamo Cioè Entriamo nella stanza Del tesoro Vediamo cosa c'è Risco le bombe C'era una tss Potevo Però Vabbè E fa nulla Dai Dammi così Vediamo cosa mi offri Sì dai Prendiamoci White candle Che comunque Mi Mi dà una buona Cioè Mi dà Ho un insieme di oggetti Che mi danno Un ottima Ottimi effetti Sul colpo Subito Quindi sì Forse devo piazzarlo Nel mezzo E avrei potuto Romperli tutti Ciao Peccato Dai Magic mushroom Così Sarebbe stata Una figa Un range up E boh Bet trip Un po' meno Ma il range up Invece è ottimo Il range up È spettacolare Quindi io praticamente Dovrei uscire a shottare L'universo Quando uso shift Quando uso shift Ho a tame Che si attiva Più Il No a tame Basta Il foco non si attiva Proprio a tame Si attiva E fa quindi Molto danno Figo Mi piace Cuore di fede Ah perché White candle White candle Da cuore di fede Anche Mi dà i patti con l'angelo E dà il cuore di fede Non male Non male Tu sei un Un nemico Divisibile in molte In molte In molte zone Quindi ok Va bene Cioè mi va bene Che tubi Mi faccia Quell'effetto bello Quindi si Eliminiamo Questi amici Facciamo questi amici Abbastanza Danno a essere tranquilli Troviamo la stanza Del tesoro E cerchiamo Tenele robe Interessante Io sto provando Ogni volta Attivare questo Però nulla Vai così Due cuori neri Ne valsa la pena Ne valsa Oggettivamente la pena Vai Vieni qua Ti falcio Mi sembra Molto giocatore Di calcio In questo momento Vista la quantità Di ignoranza Che sto utilizzando Per far del male I nemici Con questa falce E' bellissimo E' semplicemente Bello utilizzarlo Questo personaggio Veramente Lo consiglio a tutti Ora Magari E' molto difficile Perché veramente Se non ottieni un setup Decente E' difficile E' complesso Utilizzare Perché devi Saper giocare In melee E' un personaggio Minina Isaac E' ovviamente Svantaggiato E non potete dirmi Che il coltello È melee Un coltello Non lo si usa Mai O quasi Melee Quindi Il coltello Non è propriamente Melee Ciò si viene Questo personaggio E' complesso Da utilizzare Perché dovete Andarci corpo a corpo Ora Sto facendo Dei danni Per il sistema Per il sistema Con cui Sto giocando Però effettivamente Non fa troppo danno In questo momento Se riuscissimo A ottenere Dei aumenti Di danno Sarai molto Più contento Ma non so Ecco qua Invece Ritengo necessario Utilizzare subito Questa Questa fantastica Abilità Che abbiamo Perché semplicemente I nemici Quella stanza Sono non fastidiosi Di più Ma molto di più Che fastidiosi Dammi questo Che è un corso De me Grazie Preferisco Oggetto passivo In questo caso Che è Betrial Che mi dà l'effetto Di quando prendo danno I nemici Sono tutti i miei amici Sarebbe figo Se si attivasse Sempre A prescindere Ora Test 6 Something's wrong Non capisco Perché sta rallentando Di frame Ma perché Un po' di mod installate Forse ecco Quello che dovrei levare E' quella Di alcune mod Di personaggi Tanto Non aggiungo Non è il buono Danno stupido Ammetto Che questo Era un danno stupido Ho una buonissima possibilità Di ottenere il patto con satana Il patto con satana Il patto con l'angelo Scusatemi In questo caso 5 centesimi Per potermi recuperare Questo cuore di fede Che è ottimo C'è un cuore nero In questa stanza Che non ho visto Non so perché Ma va bene così Me lo recupero subito Vorrei uscire Da queste Da questa zona brutta Perché Da problemi di frame Al gioco Devo sì Più che altro Non è problemi Al mio compito Credo poca ottimizzazione Tra le mod Cosa che sia Cosa che penso Sia abbastanza normale Essendo le mod Di certo qualcosa Di non ufficiale Se fossero ufficiali le mod Sarebbe Sarebbe Molto più pieno Il gioco Però se ho tempo Sarebbe un gioco Differente Vieni qua Che ti falcio Quando mi passi vicino Fatti Fatti falciare Wii Falciato Vai Aumento di tiers Che è una cosa buona e giusta Così posso Sbingare L'ascia Il più fratta possibile Candle kit Grazie C'è tipo per fare Mega sa Mio dio Mi dimentico sempre Che devo fare questa cosa Shifta E muori Grazie 10 centesimi Che sono interessanti Avessi avuto Terotcloth Volentieri Facciamo così Se io piazzo a metà Più o meno Così Ci arriva Su che c'è 25 centesimi Salve Un quartino Andiamo a prenderci Terotcloth Che era una cosa interessante Terotcloth Quindi vai Terotcloth Terotcloth Mi permette Di far funzionare Comunque Ho tenuto un aumento Di luck Grazie al mio Oggettino Che ho Che ho preso prima C'è quello Che dei famigli Che quindi funziona Con la luck A quanto pare bene L'eremita Come siamo all'inizio Del prossimo piano Che intanto Non mi cambia troppo la vita Vorrei ottenere Però un aumento Di danno Ecco Veramente Questo personaggio Ha bisogno di aumenti Di danno Più che tiers Diamine Non ho tenuto un aumento Di danno E sto andando Soltanto con il fatto Che i boss Gli elimino velocemente Grazie al mio Attacco shift Quindi basta Usiamo l'eremita Prendiamo Ambling Bundle Ambling Bundle Ambling Bundle Sarebbe un bellissimo Nome per un oggetto Che magari Un fake oggetto Simile a Ambling Bundle Che in realtà Ha un effetto Non troppo positivo Che si deve riconoscere Dal non prendere Non è vero Non avrebbe molto senso In ISAC Un oggetto Che ha un effetto negativo Negativo Puro Che puoi trovare Per trovare Devi pagare Già Già La course The tower Comunque Non è Negativa C'è qualcuno Qui piace Il course Die Un modo Differente Per giocare Una partita Non divertente Però può Essere utilizzato Effettivamente C'è chi Chi riesce A utilizzarlo Ok C'è chi ci riesce Tanto di cappello A quella A quella Persona Non fortunata Perché Significa Veramente L'ha trovato Tante volte Che è riuscito A imparare A utilizzare Bene Quell'oggetto Quindi Mi dispiace Per lui Per essere stato Così tanto sfortunato A dover A aver dovuto Imparare A utilizzare I curse Dai Quindi Non c'è molto A dire su questo Veramente A livello di sfortuna E credibile Grazie per il cuore di fede Mi piace che il gioco Stia droppando Comunque Molta roba Tanta roba Nonostante Nonostante la situazione No abbiamo veramente Un sacco di oggetti Che si attivano al danno Ci manca soltanto Quell'oggetto Che mi da Che mi aumenta il danno Ogni danno che prendo Quindi va bene Se ottenessimo Out of the void Sarebbe interessante Ho provato Questo personaggio Mh Fancualizziamo la partita Ma si Ma andiamo all'affanculo Era troppo facile No Dataminer Usiamolo Vai Cosa mi ha aumentato La lacca E mi ha diminuito il range Via Si comincia Test aim Wooden cross La mia fete La mia fete La mia fete Mi proteggerà Magari è l'effetto Una volta Di Per un Per un danno preso Di Come si chiama Di Di cosa Di Mi viene il termine Di Olimentol Lo vedo Lo vedo Dalla forma Che mi ricorda Tanto l'olimentol Poi magari Mi sto sbagliando Ovviamente Però Io Mi sembra Olimentol Questa 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 cosa Quindi penso Magari Effetto Per una stanza In cui prendo Per un danno Di olimentol Dove essere protetto Dal prossimo danno In teoria Boh Vabbè Non ne idea Lo scopriremo In ogni caso Non è una mod Che lo aggiunga Credo Quindi figo Come cosa Credo che andrò Non corpo a corpo In questa stanza Perché questi esplodono Aspetto un po' A caricare L'attacco esoterico Della falce Diciamo Perché la falce Utilizza principalmente Corpo a corpo Diminuzione del danno Bella Bellissima Come cosa Questo oggetto Ogni tanto Ha funzionato Nell'arco Delle mie numerose Partite Per ogni tanto Intendo Una volta Credo Ma poi Veramente È stato sempre Più un debuff Sì Effetto dell'olimentol Era l'effetto Dell'olimentol Adesso Non so bene Se non darà più Questo effetto Semplicemente Anche tra La prossima stanza Sì infatti Però forse Posso Posso taroccarlo Riprendendolo No ok Semplicemente Non funzionava più Magari una volta piano Eh Cavolo Una volta piano Sarebbe interessante Come cosa Sarebbe molto interessante Non è che magari Mi dai un famiglio Mi potenzi No mi dai due carte Che una è un joker Un esot heart Dammi il joker Che è più interessante Sono proprio un jokerellone Quando faccio queste cose Qua Ho rischiato di Effettivamente Di bombard No No È una zona brutta Quella Per stare Mio Samael Levati da lì Vai Aumento di vita Più delle mosche E finché non prendo danno Voglio avere questo effetto Duality Ci sta Perché da ora Fammi fare così Vai Mi ha Mi ha Mi ha Mi ha Mi ha aumentato il danno Cosa che in realtà Mi va abbastanza bene Ci sta Perché avrò sempre Sempre L'effetto Vabbè così Che almeno Ce ne eliminiamo veloce Avrò sempre L'effetto Duality Cioè ora Avrò sempre Sia il patto con satana Che il patto con l'angelo Cosa che mi è Almeno La possibilità di patto con angelo E satana Quindi la cosa Mi aiuta abbastanza Ovviamente Non è Duality L'oggetto partita Lo sappiamo tutti Ne siamo Più che consapevoli Qua In questo senso Però Vabbè così Dammi questo Ovviamente la luck Perché conta con Solo famiglio Che mi segue Peccato Entriamo qua dentro Dovrei avere Un'impossibilità Proprio Di Di vincere Curso the blind Ah prenderemo Oggetti a caso Quindi mi sta in cielo Il gioco Credo che dataminer L'ho usato anche Fin troppo Quindi basta così Con dataminer E andiamo avanti Ho la vaga sensazione Che dataminer Ha fatto anche Fin troppo Nel senso che Non ha fatto nulla Principalmente Quindi sì Andrò per il patto Collagero Qua saprò la scelta In caso avessi la scelta Andrò col patto Collagero In sostanza bellissima Questa eh In sostanza adatta Al personaggio Vi dicono Dalla regia Una chiave dorata In realtà è buona Ti levi No grazie Non riuscivo a levare La cosa grande Che non so Da quanto avessi Quindi ok Sì comunque È ritorno L'effetto di protezione Dai danni Quindi va bene Better rip E magari evitiamo Magari eh Ma solo magari È bello Che Ottengo il cuore di fede Qua così Mi piace Dai usiamolo un'ultima volta E poi basta Ok sì Mi ha dato un po' di velocità Che in realtà è la cosa che mi aiuta E basta così Non lo utilizzerò più Per Per essere Per giocarmi nel modo formo Ecco qua Semplice semplice Qualcosa Bloodcron Bloodicron Lo potrei Sì lo voglio Perché ho ottenuto Oggetti che Non sono stati buoni Prendiamo Qui dentro Libra Ah Ciò significa In poche parole Che adesso Non me ne può fregare di meno Devo Posso utilizzare Questo oggetto Ogni volta che voglio Per potenziarmi In poche parole Perché intanto Chi se ne No Giusto Vai Ah Tears up Che non diventa Il nulla Perché È talmente minimo Che non è effetto Quasi Smelter C'ho questo trinket Adesso addosso Anche Extension card Charged free hand Charged free hand Non so Cosa tu sia Extension card Ah Vedo un laser Ogni volta Tra i nemici Tra i miei Tra i nemici Tra i miei famigli Ogni tanto che viene Tra i miei famigli E me Che viene Messo Mi ricordo che c'era In una mod Che ho effettivamente Messo Tra i Tra i Tra i miei Che ho messo Tra i miei mod C'era effettivamente Questo effetto Quindi Ehm È uno di una mod Carino Vai Che tanto vorresti Aumentarmi tutte le statistiche Il due al limite Mi diminuisce Soltanto Me ne diminuisce Poche Quindi vai Vai così Chissene Mamma Salve Mamma salve Come va Muori mamma Vai Vai così Muori mamma Ti prego Devi morire in fretta Vai 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 Che mano Perfetto Niente patto con satana Però non lo vedo Quindi preferisco Prendermi la polaroid qua E andiamo Via Polaroid E andiamo avanti Ho Bloody chrome Bersi con freedom Quindi devo cercarmi Una stanza Una stanza del tesoro Più Possibilmente Tutto ciò Che mi Che mi permette Il gioco di trovare Ehm Sai che ti lascio lì Casomai che ottenessi Un patto con satana Qualcosa molto probabile Ho Quindi la possibilità di Dare tutti i miei cuori E ottenere comunque Un qualcosa extra Ora in questo momento Invece La mia Capacità vitale Mi dice Cioè io non sparo Quindi perché Diamine mi stavi attaccando Vieni qua Muori grazie Aumento di tears Aumento di danno Diminuzione di shot speed Che Mi va bene In realtà Diminuzione di shot speed Quindi Ok spero di non Prenderci danno Con tutta questa storia Però Purtroppo non è andata così Tengo Aumento di velocità Con Con quella cosa Perché sono Aumento di velocità Potete darmi in qualsiasi momento Ogni volta che Utilizzavo questa cosa Ma va bene Le stragi Quanto è bello fare comunque Le stragi Veramente Divertentissimo Questo Mi piace Mi piace Non mi sento debole Mi sento In una situazione di sfida Perché non Non è forte Comprendenti Non è un personaggio Che diventa OP Facile Non è un personaggio Che Mi piace perché diventa OP Come per esempio Rainmaker Me lo gioco bene E 90% delle volte Finisce che la partita La rompo Bella stanza Bellissima stanza Quella sotto Ovviamente è spettacolare Una delle migliori stanze Di tutto il gioco Ha un significato profondo Speravo in cuori neri E sono stato Incompensato Mi ha aumentato Mi ha limitato la velocità Però mi ha aumentato Il danno E il range Quindi ok Finché non mi dunisce Il danno Mi va bene Mi ha limitato la luck Mi ha aumentato la velocità E lo shot speed up Magari evito di utilizzarlo L'ora e poi Ok Ho già sfruttato fin troppo Già L'ho già usato troppo E sono già stato troppo fortunato Sì basta Basta utilizzare Questo oggettino C'è una roccia tinta Che non ho visto Potevo aprire prima L'altra cesta No Vero Adesso dobbiamo trovare La stanza Anche del tesoro Di questo piano Su via gioco Dai Permettimi L'accelerazione Devo trovare la stanza Del tesoro di questo piano Devo tornare indietro E intanto Vediamo se c'è il patto Con satana O meno Cosa che è sempre buono Sapersi Something's wrong Vai Sister Viz Salve Sister Viz Buona morte Sister Viz Il prima possibile Voi dovete morire Proprio duro C'è un boss Che deve morirmi duro Sei te Sister Viz Grazie Blood Cloth Dammi di Joker Dai L'olimental Beh c'è l'ufficiale Grazie Grazie per l'olimental L'ufficiale Mi piace come cosa Avere l'olimental Perché lo sto affrontando Voi mi direte Ma per lo sport Ovviamente Non sto scherzando Non c'è nessun altro motivo Per volerlo affrontare Lo sto per sport E per ottenere un drop A quanto pare Dell'overs Grazie Ma se usiamo Un'ultima volta Va bene Più di così Mi va bene Andiamo avanti Eliminiamoci questo nemico Speravo sinceramente Di poter Prendere gappi Dopo essere entrato In un patto con Satana Però a quanto pare Sono stato sfortunato Ah è bello l'olimental L'olimental comunque Ne è valsa appena Entrare in quella cosa Perché l'olimental Ora ufficialmente In ogni stanza Questo Cioè Un colpo per stanza È parato Beh Meglio di così Si muore No Ah stanza del tesoro Salve Ora Bello l'oggetto Della morte No uno solo Ho ripreso Eutanasia Mi sa Maledizione No vabbè Mi aumenta le statistiche Questo Quindi ok Belli oggetti Pensavo perché A Blessing Freedom Di solito Ti dà Un oggetto in più Che palle Avendo tutti Tutte le cose Adesso non posso Sfruttare A Blessing Freedom Maledizione Cavolo Maledizione Cioè Che sfiga Dammi Deadcat Oddio mio È una figata Con i laser Questo Letteralmente Sono Sono Un momento Di figaggine Utilizziamo L'ultima volta Ok basta Non ti uso più Mi dimentico Le statistiche Quindi No L'ultimo Questa è l'ultima volta Mi farete male Prendete tutti I miei famigli Tra di loro Ogni tanto E me Anche Cioè Ogni tanto Spariamo laser Così Nel mezzo Tra di noi Che figata Estrema Che estrema Figata Da quello che avevo letto Mi ricordavo Forse più tipo Sempre presente Un laser Però quanto pare Proprio un laser Che viene sparato Forse Con le mie statistiche Forse Mentre sparo No Si attiva sempre Però Statistiche di un'altra persona Quindi ok Andiamo qui sopra Vai a te Mi dai sempre I due colpi Che non dovresti poter sparare Perché Sei un figlio di buona donna Ma lasciamo stare Dai Ups Sei un boss Quindi te meriti Di morire velocemente Grazie Quando Quando sono boss Meritano di essere morti In fretta Rapidi e veloci Morti rapidi e veloce Veloci Dammi Una marea Una marea Una grande marea Di centesimi Mi piazzo qua dietro Vediamo di ottenere Roma interessante Per dire Non piange Sopra lacrime versate Tu lo verrai mai perdonato Stai sveglio Guarda la luna Sei solo un peccatore Portagli la foto Stai buttando via la tua vita Incontrassi senza pregiudizio Non sarai mai perdonato Non piange Sopra lacrime versate Cadi addormentato Vai alla prossima stanza Ok Non sarai mai perdonato Stai giocando A male Dammi il controllo E chiedimi dopo Stai sveglio Chiedi Poni in questione l'autorità Credi alle persone Muore I tuoi errori Sono solo naturali Sposati e riproducidi Che vuoi fare oggi Chiedi di nuovo più tardi Scusate Mi ha preso la voglia Di leggere tutti Quindi ok Che non l'ho mai fatto Quindi Hai uscito Hai visto l'uscita Vai direttamente in prigione Roberto è stato cancellato Chiedi di nuovo dopo Non lasciare casa oggi Chiedi di nuovo dopo La tua vecchia vita Giace in rovina Poni in discussione l'autorità Non credere a nessuno Hai visto l'uscita Credi in te stesso Arrediti Morirai solo Ottieni un bambino Che Un piccolo No un bambino Un cucciolo Che ti Che ti tiri su Porta lì la foto Solo che ho avuto Mi sono addormentato Tu sei nato sbagliato Ok grazie Tutte belle cose Sempre Death Full Dammi Dammi death A questo punto Tanto Gli altri Non è che siano così tanto utili Anzi Non il contrario Ma non sono utili Quindi Me ne posso fregare Due cuori di fede Per i soldi spesi Ovviamente Sono pochi Però Va bene così Dai Ero consapevole Di si fatta cosa Faccio veramente Un danno nullo A questi Con questa situazione Non posso sbagliare Neanche E Non riuscirò Più E non riuscirò A ammazzarli No aspetta Fanculo Perché Perché non uso Le mie maledette bombe Non per uscire Ma per completare la cosa Maledizione Perché devo fare Visicamente male Cercando di risolvere Una cosa Che non dovrebbe essere Troppo facile Normalmente E in questo caso Ancora meno C'è un'altra stanza Del tesoro Che devo visitare Qui Quindi vai Andiamo a visitarla Vorrei ottenere Un patto con satana Perché Magari Mi da 2000 statistiche in più Roba forse Come mascara Mi potenzierebbe Ora No So i milk Mi potenzierebbe Cazzo dico So i milk Sarebbe buono Però Avere un doppio aggetto Di gappi Con questo personaggio E di venire Gappi Sarebbe bello Perché Sempre interessante Quale cosa Forse Forse sarebbe stato Leggermente più bilanciato Con il volo Dai Usiamo due volte Mi ha inventato di tanto Le tears Mi ha detto Lo shot speed up Che è una cosa Che non mi può fregare Non pensavo Di essere stato colpito Pensavo di essere a pelo In una zona In cui non potesse colpirmi Lo shot speed up È una cosa Che non mi serve Letteralmente Con questo personaggio Quindi Perché il colpo Così Ne sparo uno Di morte di papa Quindi comunque Non Non mi Non baso I colpi Come modo Per far danno ai nemici Ciò Ciò mi fa Principalmente dire Che Chi se ne frega Lo shot speed up In questo caso Dammi Un aumento di Dammi il resto Ecco Di nuovo Ablessi conflito Per caso C'è qui Perché Piango un pochettino Se mi fossero stati Cioè Se mi avessero dato Due oggetti extra Il gioco Oltre a Questi extra Che già abbiamo ottenuto Però Vai Fammi Fammi far così Così almeno La risoffiamo facile Vai Eh Ecco Forse questi sono Tra i nemici Più fastidiosi Con questo personaggio Ma va bene Mom's wig Me lo prendo Usiamo di nuovo Questo oggetto Che intanto Ormai sono diventato Un sadico Del cavolo Tutti Cose dorate Li ho resi Tutti dorati Quanto mi piace Una cosa E It lives E sempre con me Nel mio cuore Come sempre Questo sarà un po' Diffico Ecco Questa sarà Questa sarà una fight Complessa Ammetto Perché Sarà difficile Schivare gli attacchi Però Poi quando entro Però quando entro In berserk Poca roba Mi resiste Sariamo qui sopra C'è un oggetto Di gappi Che voglio prendere Per quanto il volo Sia interessante L'oggetto di gappi Qua è più utile No Non ho le statistiche Deve poterlo fare Sariamo qui sopra Ascendiamo Al cielo Con Con Samael Per ucciderci Bello vedere Che ho comunque Il patto con l'angelo Anche se non ho il patto Con satana disponibile Il danno È discreto Non è Il danno più forte Dell'universo Proprio zero Però quantomeno Ho una falcia abbastanza grande Da poter falciare Qualsiasi cosa Vedo Proprio a distanza Oddio santissimo Te muori Poi non so se è voluto Ma Tame Comba Molto bene Cioè Quando Quando la usa Tame Ha un effetto Che rimane Esattamente il tempo necessario Te aumenti il troppo di bombe Cosa che Non mi cambia la vita Ecco Quindi sì Poi faccio anche Un discreto danno Un'ottima cosa L'ho tenuta Alla stanza del tesoro Lo scorso piano Sì sì l'ho tenuta Ho preso Mom's wig apposta Nella scorsa stanza del tesoro Vai Chissene Qua cosa c'era? C'erano questi Che io volevo assolutamente Prendere Dammi questo Effetto Vai così dai Mi sento tanto La morte Il mietitore Comunque oggi Non l'ho detto Ma c'è la life Credo Perché dovrebbe essere domenica Per Per voi Gente normale Ah ma L'oggetto attivo Mi definisce Gli effetti Forse no Era semplicemente L'effetto di quell'oggettino Lì Isaac Salve Appena Appena ottenuto la cosa Per essere La 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 L'efficienza Al knockback L'ho spedito via In modo che mi ha fatto Troppo ritere Internamente Perché non ho riso L'avete visto pure voi Però Mi ha veramente dato piacere Perché Mi sembra di Di spostare una palla Che scivolasse via Quindi era simpatica Come cosa Vai così Muori subito Uuuuuh Gli ha levato la testa Che figata Cosa prende L'animazione Praticamente Della morte Si messo Isaac Ma parte Falciato Bella Bella Ok Andiamo così Beh Prendiamo tutto Gimpy Bozzo Partita Ah un aumento Di danno Sarebbe un aumento Di danno E altra roba Gemini Un famiglio Che Mi farà Effetti carini Sul acido solforico Niente di che Non volevo andare Direttamente a mega satana Però Il mio cuore Mi ha detto Vai da mega satana Vai da mega satana Vai da mega satana Cavolo Quindi andiamo a mega satana Potevamo vederci Come Uccidere I personaggi In altro caso Però Dio mio Che figata Di personaggio Questo Veramente E divertente Quell'animazione E una genialata Cioè Oggettivamente Dare Visto che c'è Una Una falce Dare oggettivamente L'animazione È stata Un'idea Buona Eh scusami Eh però Te meriti Te morte Mi dà fastidio Che hai le falci E quindi Meriti di morire Cioè Solo io Posso usare le falci In questo caso Quindi No In questo momento Sono io Il falciatore Della situazione Sono io Che ti falcio Non sei che tu Che falci me Dai vieni qua Mega satana Caro Forse Forse devo tenermelo Per questo personaggio Perché Vabbè Posso sempre fare così Vai Fanculo Ok Ho eliminato I nemici Da eliminare Il più fretta possibile Non credo Che ci sia Ma spererei tanto In un'animazione In un'animazione Anche per mega satana Veramente Sulla morte Di mega satana In cui Non lo so Gli inficco In testa La falce Della mia falce Falciosa Però Va bene così Tess è quasi corpo a corpo Anche normalmente Quindi Non mi interessa Anche te Ti avvicini molto Alla mia definizione Di Vado corpo a corpo Quindi Sì Però Al contrario dell'altro Ti stupro Con Con quell'effetto Che c'è Mi cazzata Non prende troppi danni Cioè Non prende troppi danni Ma se mi evochi così Ma Venga E volentieri Se tu evochi Cioè La cazzata è tua Non mi metto problemi Ora sarà complessa La situazione Però Gli piazzo una bomba Per Diminuire la complessità Di tale situazione Ho il danno Una protezione Ora invece Ho Questo momento Di Di follia Come mi direte Perché sei rimasto lì Tutto quel tempo Vabbè Fa nulla Ai maledetti fuochi Mi parano i colpi O sono Non lo so Sono soltanto Che muori Mega satana No peccato Niente animazione Ci speravo Peccato Ah è completata così La partita Veramente un bel personaggio Molto ovviamente Con Bull Baby Sarebbe ricapitata Una animazione simile Ci stava Mi piacerebbe vedere Più animazioni di quel tipo In un certo senso In ogni caso Qua da lì è tutto Se vi piaciuto il video Ricordo di scrivervi Commentare Mi piace A me è piaciuto abbastanza Quindi Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti